Continua a cambiare pelle il mercato cittadino nell'area del San Decenzio. Dopo l'allargamento dell'area parcheggio di un anno fa e il trasloco dei generi alimentari da Piazzale Bachelet accorpati al resto del mercato dello scorso febbraio, sul tavolo di confronto di comune associazioni di categoria ambulanti sono pronte a discutersi nuove modifiche per quanto riguarda disposizione geografica degli espositori e aree di sosta. Su quest'ultimo punto si pensa infatti di ricavare un'area sosta dedicata a moto, scooter e biciclette nella superficie dei campi di basket. Superficie ampia in cui troverebbero spazio rastregliere e nuove strisce di parcheggio dedicato in una strategia volta a migliorare arrivo e accesso al mercato che negli ultimi mesi ha visto anche l'adozione della sosta auto a rotazione con disco orario. Sul tavolo di confronto è pronta anche una possibile riconfigurazione degli stand per generi merciologici. Intanto l'area del San Decentro si prepara ad accogliere un evento inedito, quello dei camperisti d'Italia che hanno scelto la capitale della cultura come sede del proprio raduno nazionale previsto l'11, 12 e 13 ottobre.